Allora cari amici, hanno passato a me il microfono, ma io velocemente, perché è una cosa sua, la Sony Music è lei, pertanto io passo il microfono a Rita Costa, della Sony Music, per intervistare uno degli artisti che a me prende moltissimo. La sua musica ancora oggi emoziona e rende speciali le serate. Rita, a te la parola. Grazie Walter. Siamo qua alla festa di compleanno di Mario Pizzocri, che rinnoviamo i nostri carissimi auguri. E Mario ha voluto a tutti i costi un uomo, un cantante, gli anni 60, la musica Evergreen. Mi hanno detto che se dobbiamo fare la sua biografia va avanti mezz'ora. No, infatti, l'unica cosa che voglio dire, prima di presentarlo, è che quest'uomo quest'anno festeggia i suoi 50 anni della carriera. E quindi faremo una grandissima festa proprio per questa occasione. Prossimamente vi diremo di più. Sempre grandi sorprese. Sempre grandi sorprese. Per me è un onore in questo momento presentarvi il grande Pino d'Isola. Eccolo Paolo. Mi fa emozionare. Intanto facciamo gli auguri a Mario. Non volevo mancare. Tu sai chi mi sta ascoltando, come sto. Non sto bene. Però ho preparato delle canzoni. Spero di aver coinvolto tutto l'all facial. Li abbiamo fatti ballare, Rita. Assolutamente sì. Allora, gli anni 60, la musica Evergreen è veramente sempre verde. Abbiamo fatto ballare tutti. Da noi un po' meno giovanissimi, anche quelli giovanissimi li ho visti ballare alla grande. Specialmente con l'ultimo brano che ho scritto, Vamos a bailar. Vamos a bailar. Benissimo. Non ci credevo nemmeno io. Tu vedvi, qui siamo un fesco. Ecco. Gente che magari non vuole, ti garantisco che era un fesco. Una cosa mega galattica perché dobbiamo ritornare, vero Walter, negli anni 60 con le nostre canzoni. Ecco. E la chiamano estate. Ecco qua. Io passo la parola. Eccolo qua. Abbiamo un altro ospite. Eccolo qua. Rita, questo è tuo. Ma che bella dichiarazione, Riedo. Non me l'ha mai fatta nessuno. Abbiamo qui con noi... No, stai qua con noi. Abbiamo qui con noi il pittore dei VIP, a Riedo Lorenzone. Un grande. Un grande. Lui, mentre chi prende la gente con la musica, lui la prende con l'arte. Lui prende tutti con l'arte, soprattutto le fanciulle, diciamolo. È un polipo. Sì, sì, sì. Però ho visto una fanciulla che devo andare a controllare. Ho dei dubbi. Ho dei dubbi. Ho dei dubbi. Allora, adesso lascio la parola ad Ariedo Lorenzone. Allora, ciao a tutti. È una serata stupenda. Con amici stupendi. C'è qui Rita Costa, il mio ufficio stampa. Sergio Soldano. Walter Rotta. Mario Pizzocri, di cui al compleanno io veramente lo ammiro. Poi c'è qui Pino Disola, che ha fatto una serata speciale. Ariedo, cosa sta preparando la Sony Music? La Sony Music? Un pezzo che non posso svelare. Un pezzo incredibile. Arriva Lorenzone. Quindi saremo lì ad aspettare questo pezzo incredibile. Stiamo preparando, fai pronto. È già pronto. Cosa? È già pronti? È già pronti? Patate? Per tutti. Patata per tutti. Patata per tutti. Vediamola, arrivederci. Patata per tutti. Sì, sì, sì. Ciao. 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 Ciao, ciao, ciao. Grazie a tutti.